Truffo queste cose, cioè truffo qua, vabbè, io scambio queste cose, non invitami a un'altra cosa Ti invito io, ti invito io, aspetta, ti invito io, così poi ti invito allo scambio perché se no non c'è per funzione Entra Come si chiama questa impostazione? Ok, si tratta, devi concentrare che se non riesce poi ti invito Ok, vai, metti questa macchina e quelle cose che hai tu, così meno ti fai perdere Aspetta, prima proviamo con questo, vediamo se non mi rappresca Non funziona No, non ha senso puoi scambiare queste cose, lo metti quello Ma no, ma perché se io faccio duplicazioni perché poi io ti dico il procedimento, ma per il procedimento tu ci fai... Allora, io ti spiego, se tu, io voglio scambiare cose di stesso prezzo, al minimo stesso prezzo, al minimo stesso prezzo Ok, l'importante è il resto del posto alla fine quantità E' un ottimo del posto, la sua zombo 100. Non c'è I Pani Pani Z Non sbrigare, non riesco a metterci l'amicizia Ti dubbio di queste cose qua che hai tu E poi mi prendo qualcosa io E poi magari ci sentiamo qualche giorno E mi dubbio di qualche cosa qua, va bene? Almeno ti spiego che ti dimentico Mettiti qualcosa Io non... non lo so cosa c'è In caso ti scrivere la play Ma è difficile Quindi che metti? Fa una cosa, fa una cosa Se magari non ti fidi perché è giusto Ma io lo faccio con gli amici Io lo dico perché Pure loro hanno visto che hanno detto che sei simpatico Alla fine io non... Fa una cosa Prova a mettere Una cosa che hai Minimo non lo so 100 Almeno ti fai un po' di credito Tanto così facciamo una cosa Visto che mi sei simpatico Ti metti magari pure Aureola Visto che hai detto Aureola Oppure metti Interstellar Una cosa che vuoi tu Però Almeno che costa un po' E poi ti spiego il procedimento Così almeno Ti prendi queste cose E ti spiego il procedimento Metti Fa una cosa Se metti Aureola E già Aspetta mi sembra che gioco Una Aureola Interstellar Con questa cosa Sono Più di 2.000 o 3.000 Perché Complicando le tali vende Se ci fai proprio un bordello Ti puoi comprare Tutto quello che hai vuoi Però poi mi... Vabbè dai Aspetta Vai Dimmi quando arriva uno che... Devo... Ammaccare X È arrivato Ok Ok No Le... Spermendo un lato Eh Esco la macchina troppo tardi Rifat... Ma non ci cambia... Non ci cambia niente Poi la Aureola Metti tutte e due a sto punto Bravo Ok Perfetto Vai via Ah che perfetto Perfetto Ehm... Dimmi quando ammaccò Dimmi quando è uno Dimmi quando è uno Ehm... Ehm... Sei tu che lo levi Ehm... Mi vuoi truffare? No io veramente Te lo dico per chi pure con i miei amici Aspetta che sei Eh... Teppe Costa Eh... Teppe Costa Eh... Teppe Costa Teppe Costa Se non riesce premiamo con l'Aureola Aspetta Franca Vai metti pronto Ora 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 Ma che volevi pigliare per fissa Sta cosa... Cosa è dal 1700 che c'è Ma sei malato Dico io sto recando tutto Sto recando tutto Sto recando tutto Sto recando tutto Fraaa Non si può Non si può Ma sei scemo Io non faccio invece Non si può Io sto recando tutto Sto recando tutto Ho recato tutto Vabbè Mi sto calmo Non ti fa le cose Sì dai frassa cosa c'è dal 1700 Sto recando tutto Saluta YouTube Vabbè Dichi tu La fai Francia dai Dimmelo tu Dimmelo tu dai Dai Dimmelo pure tu Francia 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 Vabbè però Lo dicevo per te se non lo vuoi fare niente Ciao Saluta YouTube dai Che truffa che è stata ragazzi madonna mia Che cretino Che cretino Adesso la pubblico ragazzi Adesso la pubblico Che truffa tocca